Io gli volevo bene. Per 50 anni ho sepolto dentro di me quello che mi è successo. Mio padre mi aveva abbandonato dalle suore. Si vergognava così tanto che disse a tutti che ero morta. I miei parenti non mi vennero mai a trovare. Dopo aver partorito eri obbligata a rimanere in convento per 4 anni e per ripagare le suore che ti avevano accolta dovevi lavorare. Il lavoro peggiore era alla lavanderia. Ed è quello che mi assegnarono. Ci ho lavorato 7 giorni su 7 per tutto il tempo che sono rimasta lì. Sempre insieme alla mia migliore amica, Kathleen. Ci permettevano di vedere i nostri figli un'ora al giorno, non di più. Camminare! Non correre! Camminare! 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 Grazie a tutti.